In diretta dal Cine Vittoria Locri per il Carletto Show, l'avevamo anticipato già in precedenza. Chissà quante volte hanno esordito con questo, Franco, oh Franco. Stasera vogliamo ovviamente parlare di luoghi comuni, intanto ringraziarlo per la sua presenza qui e l'anteprima di Aspromonte al Cine Vittoria Locri, davvero un grande happening. Voglio chiedergli, parlando appunto di luoghi comuni, due in particolare. Uno secondo me è molto positivo e l'altro un po' meno. Il primo è un personaggio veramente famosissimo e ci vuole tanta fatica, tanto lavoro, tanto sacrificio per arrivare al personaggio. Quanto poi bisogna lavorare per uscirne? E mi spiego, Franco Neri, tutta Italia lo conosce come Franco appunto, dopo uscire dal personaggio secondo me è un po' difficile per prendere parte a qualcosina, ne sa qualcosa? Ma innanzitutto saluto tutti i video ascoltatori. Sì, allora, è difficile, le strade sono tante perché è difficile arrivare, cioè arrivare vuol dire a farsi conoscere. Poi certo che quello che determina la popolarità è fatta da tante componenti. Io ho usato questo meccanismo, mettevo Nord e Sud insieme e facevo una sorta di differenza sul cibo della tavola, raccontando vizi e virtù di noi del Sud e vizi e virtù del Nord. Certo, è difficile perché a me mi è successo più di una volta sentirmi dire ma come ti chiami tu, Franco? E di cognomo? Oh, Franco. No, invece poi quando ti capita di voler cambiare, di fare una cosa diversa, tipo in questo caso il ruolo dentro un film dove tu non fai per forza il calabrese, fai un ruolo, è il mestiere dell'attore. Per cui è difficile tutto, entrarne, uscirne, però uno lo deve fare perché questo è la strada giusta per far vedere al pubblico che ti ha dato la possibilità di fare tante cose che tu puoi fare anche altre cose perché se non ricordiamoci, io dico sempre che il primo datore di lavoro di uno che fa l'attore, il cantante è il pubblico, se il pubblico non determina che sarà il tuo datore di lavoro, tu puoi avere anche tutti i mezzi a disposizione ma sarai sempre un disoccupato. Grazie intanto. Andiamo al lato negativo, quello che ci ho visto io, Aspromonte, quanto bisognerà lottare, lavorare per venire fuori da questo luogo comune, Aspromonte uguale, anonima sequestra. Ma io qua... Ci stiamo provando stavolta. Non è che ci stiamo provando stavolta, i sequesti non esistono più, per cui penso che non è neanche un problema da affrontare, per cui abbiamo fatto vedere una montagna bellissima, dove in questa montagna bellissima abbiamo fatto un film piccolo piccolo piccolo, sperando che molte persone, specialmente voi che state guardando da casa, continuate a vedere, cioè andate al cinema a vedere Aspromonte, ma soprattutto andate a visitarlo quel posto, perché io l'ho visitato da bambino, poi sono ritornato da grande, a 2000 metri d'altezza, chi pensava che a 2000 metri d'altezza da una parte vede un mare, dall'altra parte ne vede un'altra, una cosa stupenda, per cui c'è quel problema che dei luoghi comuni, secondo me, non c'è, perché queste cose qui non succedono più, per cui stiamo soltanto rievocando una cosa che è passata da tempo, è come l'acqua, l'acqua della fiumara si porta dietro la sabbia, le pietre e tutto quanto. Andiamo a toccare invece qualche curiosità che ha colpito Franco Neri nel corso della lavorazione, o magari già fin dall'inizio, dalla genesi di questo film, la chiamata già da parte del regista, non so, qualche happening, qualche piatto gastronomico che non si aspettava Franco Neri, magari al di là della sua cultura gastronomica calabrese. Vabbè, io come piatto gastronomico lo conosco benissimo, perché mia madre, mio nonno lo cucinava, mio zio, i miei zii, i parenti, i cugini, tutti lo sanno fare, però io non mi aspettavo che a Montalta, a 2000 metri d'altezza, mangiavo la capra col sugo, cioè, quando mi hai detto, ragazzi è ora di fare, di mangiare, c'è il catering, il cestino, il cestino si prevede una cosa veloce, perché ai tempi nel cinema, non è che c'è la pausa di quattro ore, cioè hai 40 minuti, un'ora, dipende dove sei, invece siamo scesi dal sette, siamo arrivati, ci hanno apparecchiato in mezzo ai boschi una tavola lunga, come quelle che si fanno a periodi di Natale, no? Con la prolunga di compensato, proprio otto metri, e c'era la carne di capra, buonissimo, spaghetti peccantissimi, è stato un ricordo bellissimo, in mezzo agli alberi mangiare questa cosa, questo cibo, questo cibo e questo piatto fantastico che in Calabria, devo dire, deteniamo il primato per come si cucina la capra. Diciamolo, è il nostro sport. È il nostro sport. Ovviamente non togliamo altro tempo alla proiezione che sta per seguire, qui al Cine Vittorio Locri, è chiaro, domanda da un milione di dollari per Franco Nerni, approfitto. Cosa mi aspetta? Ecco, no, assolutamente, guardiamo oltre, intanto noi ce lo sorbiamo adesso e ne faremo ovviamente una grande pubblicità, ma Franco Neri, cosa lo attende per questo 2013, la sua carriera? Questo 2013, in questo 2013 cosa mi attende? Innanzitutto finiamo questo, perché il 2013 inizia con Aspromonte, che per me è un biglietto da visita per poter approdare a fare altri progetti cinematografici, e poi in lavorazione c'è una commedia teatrale dove non sarò solo, avrò anche altri attori e poi tutto quello che viene lo valutiamo, vediamo se si può fare, se non si può fare, se ho le capacità di farlo o di no, però per il momento c'è soltanto la promozione del film che è Aspromonte, per cui andate al cinema. Ciao. Grazie a Franco Neri, ovviamente dal Cine Vittorio Locri per il Carletto Show, Franco Neri, Aspromonte. E taglietti capite. Grazie mille, ciao.